ciao caro spirito eterno con gioia con amore il viaggio continua perché la vita è viaggio è movimento se hai un corpo muovi il corpo nello spazio se sei in casa vai da una stanza l'altra se vivi in un monolocale vai su e giù se esci per strada cammini quindi il movimento vita viaggio voglio ricordare visto che siamo in autunno un autunno di 56 anni fa 1168 finalmente sin da bambino l'ho detto in altri video e da quando avevo otto anni aspettavo avevo visione dicevo andavo in india dicevo ma io devo tornare in india mi dicevo vai a scuola vai a scuola insomma riuscii a rimandare il viaggio ma avevo due genitori che decisero di regalarmi un biglietto aereo in india poi tornai gli anni successivi stabilendo un programma che vivevo in india d'inverno e venivo d'estate a dare gli esami all'università a milano e ho preso per una laurea però il primo viaggio in aereo allora come è andato beh dato che non avevo mai fatto viaggio in aereo nel 1968 prendere un aereo costava un sacco di soldi però loro me l'hanno regalato questo biglietto però all'italia per andare a bombay io volevo andare sull'himalaya però il volo arrivava a bombay prima mi ha portato ad atene io leggevo il greco perché ho fatto il liceo classico arrivai lì dopo che c'è stato un colpo di stato dei famosi colonnelli quindi c'era una situazione cioè l'italia ha fatto a milano a atene mi hanno messo in un albergo ha detto vai dove vuoi e domani mattina partiamo per cioè portavano anche voli che venivano da parigi tutti lì e poi dopo caricavano l'aereo e andavano a bombay adesso si chiama mumbai giravo c'era una situazione un po' poi incontrai un italiano turista e mi fece notare che alla placca mi pare si chiamava insomma c'era un posto e lì c'erano delle macchine che dice vedi lì stavano a pranzo Onassis Aristotele Onassis il famoso miliardario che ha sposato la vedova di Kennedy Jacqueline Kennedy guardatelo questo mega ristorante tutto sotto controllo ripeto c'era stato un colpo di stato anche dentro stato in albergo la mattina fatto colazione aereo quello è il vero è perché da Milano a Atene non ho fatto a tempo neanche a guardare dal finestrino qui era il primissimo viaggio invece mi hanno detto adesso da Atene a bombay ore 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 allora mi sono messo vicino all'oblò finestrino vicino no volevo vedere sotto cosa c'è ah tra l'altro ho detto alla hostess all'italia che parlava italiano sono vegetariano mi ha detto ah non ci hanno avvisato che che lei era malato ma io non sono malato sono vegetariano cioè poi vegetariano gli ho spiegato non mangio questo quello quello che alla fine mi ha parlato due banane una mela oggi se uno viaggia ci sono sette otto menù vegani vegetariani si può scegliere quindi i tempi sono cambiati secondo me in meglio ogni modo quello che mi ha preso di questo viaggio è stato vedere dall'alto l'aeroporto mi sono attaccato proprio con gli occhi all'oblò vedo prima che è tutto regolare poi ad un certo punto l'aero si gira cioè si alza e tutto diventa piccolo l'aeroporto diventa sempre più piccolo piccolo poi la città atene bellissimo e poi non si vede più giù 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 io ho avuto l'emozione di un deja vu di un già vissuto ma io ho già vissuto su qualche mezzo io sapevo che secondo l'antica cultura spirituale indiana si chiamano vimana li chiamano aerei astronavi in sanscrizione si chiama vimana per cui ero tranquillo rilassato senza peso appoggiato così con la testa e guardavo poi c'è il mare poi dei muri per fortuna che quasi tutto il viaggio non c'erano nuvole quindi si vedeva visto il deserto le montagne poi l'oceano indiano perché andava verso Mumbai ed è stato un viaggio nel viaggio cioè nel senso io meditavo chiudevo gli occhi ho durato un po di ore aprivo gli occhi guardavo mi sentivo extraterrestre cioè che io quell'esperienza lì l'ho già vissuta e poi l'ho rivissuta tutti gli altri viaggi sono stato in America in Africa in India sono andato in 44 anni tantissimi soggiorni in India rivivevo sempre questa esperienza di leggerezza siamo arrivati da fuori da lassù e vogliamo tornare lassù e questa idea lassù che quando uno muore dicono è tornato lassù perché non siamo di terrestri ci siamo adattati anche gli altri spiriti sono adattati alla terra quindi generando poi chi è che ha creato delle case biologiche che si riproducono i corpi degli ingegneri dei chiamati gli dèi i dèi va in sanscrito chi crede in Dio dice Dio insomma qualcuno io quello che ho realizzato è che sono creatori plurale diversi creatori sono intervenuti e hanno creato delle situazioni uno vuol dire che è un Dio solo però qualcuno ha creato ma lassù cioè noi abbiamo come un lontano ricordo mentale energetico spirituale che noi veniamo dall'assù ma non tutti hanno chiaro allora in questo mio primo viaggio in aereo mi è tornato chiaro mi ritornavo per le parole di Gesù il mio regno non è di questo mondo Krishna parla della sua dimora che non è qua Krishna dice ad Arjuna se tu segui questi insegnamenti raggiungerai all'istante della morte la mia dimora quindi gli dà degli insegnamenti quindi Krishna Cristo il buddismo parla delle terre pure altri insegnamenti puntano ad andare nei pianeti superiori Svarka Loka in sanscrito quindi c'è allora io ricordo 56 anni dopo il mio primo viaggio in aereo come un viaggio spirituale un viaggio estrale come un déjà vu dicevo come qualcosa che avevo già vissuto quindi consiglio a chi viaggia in aereo di meditare chiedere un cibo vegetariano leggero chiudere gli occhi mettiti magari davanti al finestrino e vedere laggiù stanno litigando laggiù stanno avendo la polizia sessuale laggiù stanno facendo business laggiù litigano no? e poi cosa ho realizzato? che andando verso da occidente Italia Grecia verso là andavo seguendo il flusso della terra cioè la terra gira da occidente a oriente per quello che sembra che il sole sorge ma in realtà è la terra che gira quindi quando noi siamo sull'aereo che va alla sua velocità sotto la terra non è ferma gira la terra che vediamo sotto gira su se stessa quindi crea l'effetto giorno e l'effetto notte poi la terra insieme al sole ah poi la terra gira intorno al sole un anno ci mette poi con tutto diciamo il carrozzone con tutta la compagnia sole pianeti satelliti tutti girano in un tempo lunghissimo intorno al centro della galassia quindi impara che il viaggio aereo può essere un'esperienza spirituale ma c'è un altro viaggio aereo quello senza ritorno quando io ho deciso che questa è la mia ultima incarnazione su questo pianeta sicuro secondo me è l'ultima incarnazione globale però è un viaggio aereo vedrò tutto come dall'aereo sempre più piccolo sempre più lontano e poi ritrovo la mia vera dimensione originale io sono uno spirito eterno io sono un essere di luce io sono poi posso anche ricordare sono stato Giorgio Cerquetti tu ricordi chi sei stato però con gioia con amore il grande viaggio nell'infinito presente continua o rinascere in altri pianeti o estinguere questa abitudine di avere un corpo fisico e avere una dimensione eternamente spirituale buon viaggio di avere un corpo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.